Archiviata con sufficiente soddisfazione l'ultima battaglia elettorale, il centro-sinistra si proietta sul futuro della coalizione e sui prossimi appuntamenti con le urne. Oggi a Pescara il primo di una serie di confronti sul territorio regionale. Inizia un lavoro tra forze politiche, consiglieri regionali, parlamentari. Naturalmente attendiamo la definitiva organizzazione del Movimento 5 Stelle perché per noi è determinante il dialogo tra il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle. Questo è il perimetro insieme naturalmente alle forze civiche e di fronte all'inefficienza del governo Marsilio vogliamo farci anche parte dirigente per cogliere le opportunità che questa nostra regione non può perdere. Se il centro-sinistra ha indubbiamente vinto, la stessa cosa forse non è così determinata e chiara per quello che riguarda il Partito Democratico che in provincia di Pescara potrebbe aver deluso un po'. È così? Farete anche questa analisi del voto? Quando si fanno le elezioni amministrative si tende a mettere bandierine. Io invece non lo voglio fare. Non lo faccio nemmeno rispetto alle vittorie. È chiaro che nei comuni sopra 15.000 abitanti si presentano i simboli di partito, quindi è più evidente la presenza dei partiti politici. Sotto a 15.000 abitanti no, ci sono liste civiche. In provincia di Pescara non si è votato in questa tornata in nessun comune sopra 15.000 abitanti. Ci sono tutte vicende locali, però in nessun comune amministrato dal centro-sinistra ha vinto il centro-destra. Purtroppo nemmeno il contrario. Si sono riconfermati anche le esperienze che c'erano in continuità. Tuttavia non è questa la lettura politica che io voglio dare delle elezioni amministrative perché sarebbe un politicizzare eccessivamente la scelta dei sindaci che i cittadini fanno guardando al di là delle proprie appartenenze, alle persone migliori per guidare la propria comunità. In provincia di Pescara, così come nel resto d'Abruzzo, c'è un nuovo vento, diciamo così. C'è una nuova indicazione, c'è una nuova disponibilità e noi la dobbiamo raccogliere perché è un'indicazione uniforme in tutto il paese. Non c'è nessuna alleanza a prescindere, bisogna condividere progetti e principi. Questo hanno detto anche i consiglieri regionali al Movimento 5 Stelle ed è una posizione che io condivido. Anche per questo oggi ci riuniamo e torneremo a riunirci più volte perché è tutto da costruire. Condividere progetti e condividere principi, valori è determinante.